Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Che cosa farò se non ci sarà un bull market e quindi mi prenderò un ribasso generale per quanto riguarda le altcoin? Ci sono delle criptovalute che ho intenzione di holdare se questo succederà. A parte che ho sempre avuto la fortuna di entrare a livelli veramente bassissimi per quanto riguarda le altcoin e se guardiamo in questo momento come la situazione e andremo a vederla poi all'interno di questo video, le altcoin sono veramente a dei livelli bassissimi. Parliamo dell'arrivo di un bear market ma ragazzi le cifre che ci sono adesso per alcune altcoin sono veramente da bear market. Per cui ragioniamoci bene quando parliamo di alcune situazioni. Ci potrebbero essere dei ribassi assolutamente ma alcune altcoin sono anche da comprare ora se si pensa che possano salire in un futuro per quanto riguarda il loro valore reale e il valore attuale. Ora ho fatto un video riguardante le criptovalute che holderei e che secondo me se non ci sarà questo bull market anche se detenute nell'arco degli anni e in un prossimo bull market potrebbero sicuramente dare dei grossi frutti e potrebbero rimanere attive sul mercato. Conosciamo alcune criptovalute che con il tempo sono state dimenticate. Sappiamo infatti che la top 10 ogni 4 anni delle cripto più capitalizzate cambia quasi praticamente sempre. Se nel primo halving alcune criptovalute, non ovviamente quello in cui c'era solo bitcoin e ethereum ma quello in cui sono apparse le prime altcoin, era caratterizzato da criptovalute che ora sono storiche ma non sono all'interno della top 10, ecco che negli scorsi halving sono cambiate ancora. Parliamo di criptovalute come Dash ad esempio, ormai una cripto quasi totalmente dimenticata. Un'altra criptovaluta che sicuramente sta andando nel dimenticatoio purtroppo è Cardano. Io sono rimasto legato a Cardano per un passato glorioso e per un rialzo enorme che ha avuto durante il bull market e mi sono fidato di Charles Olskinson, il CEO e il creatore di Cardano. Ora, non è detto che Cardano non cresca più così tanto ma non ha sicuramente la mia fiducia per il futuro. L'azienda è solida, ha sicuramente contatti solidi ma secondo me le persone non si affideranno più a Cardano dato che se anche la situazione all'interno e lo sviluppo sta continuando non sta avendo questa rivoluzione che aveva dichiarato gli scorsi anni. Spero di sbagliarmi anche perché ci ho investito, lo sapete bene, è una parte del mio portafoglio ma bisogna anche capire che non tutti gli investimenti possono andare bene. Sono comunque in game perché ho comprato Cardano a 0,22, 0,24. Siamo sopra in questo momento, se non mi sbaglio Cardano è a 0,36 centesimi di dollaro per cui sono comunque in game ma mi aspettavo molto di più anche se non siamo in un bull market. Se Cardano agirà come negli altri bull market ovvero schizzerà in alto questo forse potrebbe riaccendere gli interessi degli investitori anche retail ma questo è comunque da vedere. In questo momento non mi sento di detenere Cardano anche in un bear market. Dico la verità. Negli ultimi giorni sta circolando la notizia che Cardano sta cercando una collaborazione per l'intelligenza artificiale su Algorand ma questa non è ancora stata confermata. Ora non so se tutto questo farà veramente la differenza o no. Io resto comunque della mia idea. Sapete qual è stata la mia classifica delle cripto che detterrei e holderei anche per un bear market? Queste criptovalute sono Solana, Bitcoin e Ethereum indubbiamente. Poi c'è XRP per il potenziale e anche se non è schizzata secondo me nell'ultimo halving per la causa della SEC le cose potrebbero letteralmente cambiare e sapete perché, date gli agganci interni che ha. Oltre a questa DAO, criptovaluta di intelligenza artificiale totalmente nuova ed inoltre Flocki come special guest ed infine anche un'altra cripto che mi piace moltissimo e che secondo me può fare molto molto bene, ICP. Ora sotto me ne avete scritte tantissime che secondo voi sarebbero da holdare ma io ne ho trovate tre in particolare che holderei. Oltre a queste che ho già detto, solo queste tre, nient'altro, non di più. Non sto qui a dirvi che holderei VET anche se viene utilizzata o holderei altre criptovalute. Ne ho trovate tre che secondo me potenzialmente sono molto buone e alcune vi stupiranno anche in negativo. Per cui siamo pronti per l'inizio di questo video. La sigla non l'abbiamo fatta, quindi sigla. Eccoci di nuovo qua. Oggi vi mostrerò queste tre criptovalute che darei oltre a quelle già pronunciate in uno degli ultimi video. Quali sono? Prima di mostrarvele vi chiedo di aiutarmi e di aiutare il canale, come sempre, di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella e cliccare un bel like. Non costa niente, fatelo. Aiuterete il mio lavoro. Mi sto impegnando al massimo per darvi informazioni, ma soprattutto per mostrarvi come sto agendo, per cui se lo farete vi ringrazio veramente. Oltre a questo, se volete, potete iscrivervi al canale Telegram. Anche in questo caso ci sono moltissime persone all'interno della community che sono già iscritte. Un canale Telegram gratuito. Ci scambiamo un sacco di informazioni riguardanti le cripto, novità e come agiamo noi. Ovviamente nessun consiglio finanziario. Come dico sempre, non diamo consigli finanziari e non do consigli finanziari. Agiamo ognuno con la nostra testa e lo farete anche voi. Però ci scambiamo le opinioni e questo non fa mai male. Oltre a questo, ultima cosa, iscrivetevi al canale Angry Crypto, canale Discord, tutto sulle criptovalute. Ora passiamo iniziale. Andiamo a vedere queste tra cripto? No. Prima voglio soffermarmi un attimo e mostrarvi il valore reale delle criptovalute in questo momento all'interno dell'ecosistema. Perché se alcuni di voi hanno paura di un ulteriore ribasso, che potrebbe sicuramente esserci se non ci sarà un bull market e se il mercato tradizionale corollerà, ecco, è giusto anche che guardiate a che livelli di prezzi siamo. E che se anche accumulassimo alcune cripto in questi livelli di prezzo, se in futuro ci sarà un rialzo, se in futuro magari anche tra 4 anni, dato che se questo bull season potrebbe saltare dovremmo aspettare altri 4 anni, se ci sarà o no un rialzo in futuro, nessuno potrà assicurarvelo. Ma se siete all'interno di questo mercato è sicuramente perché credete nella tecnologia blockchain, nell'adozione di massa e credete in bitcoin e in tutte le altre coin che sono all'interno. E anche solo il fatto di specularci vi fa diventare sicuramente un cripto investitore e una persona che aiuta l'ecosistema stesso. Per cui ragazzi, io credo sicuramente che ci sarà un altro rialzo. Non so se ci sarà questa benedetta al season, sapete cosa ne penso, ma se non ci sarà quest'anno, a causa una recessione, secondo me non sarà così, ma ci sarà, ripeto, ci sarà tra qualche anno e anche alcune cripto accumulate a questo livello sono veramente cripto a buonissimo prezzo. Andiamo a vedere l'interno delle schermate a pc, così vi chiarifico tutto e capite quanto sono andando a loro il time high e a quanto potrebbero arrivare e a che prezzo sono ora. Ricordo che non tutte potrebbero tornare a loro il time high. Difatti le criptovalute sono veramente esplose per quanto riguarda la loro creazione e in questo momento sono 23.000, veramente tantissime. Per cui il capitale all'interno se non cresce almeno del doppio rispetto all'ultimo bull market è molto difficile che riporti alcune cripto a loro oltre il time high perché è più diluito in alcune cripto. Toglierai sicuramente alcune meme coin ma il settore non me lo permette per cui ragazzi. Siamo all'interno di CoinMarketCap e vi dirò, come vi ho accennato in precedenza, quali sono le cripto che in futuro potranno esistere e performare ancora bene e quali invece secondo me non sono cripto affidabili. Ovviamente la cripto principale, Bitcoin, è indubbiamente quella più sicura e quella che ci sarà per sempre data l'adozione di massa che c'è stata negli enti istituzionali e non ancora nelle persone normali e quindi negli investitori retail però. Ora, Bitcoin ha sicuramente un potenziale per tornare e lo farà e andare oltre anche il suo massimo storico. Se non quest'anno, in futuro, questo sicuramente succederà data la sua caratteristica di scarsità. La stessa situazione è un po' quella di Ethereum. La differenza è sicuramente che anche in Ethereum sono entrati i fondi istituzionali ma è un'azienda vera e propria, mentre Bitcoin non ha nessun ente dietro di esso. Di conseguenza può sicuramente subire dei crolli o delle difficoltà più grandi, ma ciò non toglie. Ethereum per il futuro è sicuramente un investimento importante e un investimento altrettanto sicuro, proprio come Bitcoin. Tether è una stablecoin, quindi non c'è nessun tipo di investimento da fare. BNB è sicuramente una criptovaluta exchange. Io non investo mai su una cripto exchange per quanto riguarda l'affidabilità futura perché sappiamo che possono sorgere sicuramente altri exchange su cui fare affidamento e la cripto di quell'exchange può essere utilizzata di meno. Ma BNB è sicuramente una cripto che storicamente ha sempre performato bene e sta sempre andando molto bene. Non è sicuramente lontana dai suoi massimi, ma allo stesso tempo è una cripto su cui non fare affidamento per il futuro. Non tanto perché non mi fidi di Binance, è ancora il primo exchange presente a livello internazionale per quanto riguarda i capitali al suo interno, ma per l'arrivo di un altro possibile concorrente o di un concorrente che c'è già all'interno del sistema degli exchange che può spolestarlo. Per quanto riguarda il suo Altai Mai è di 717 dollari, se lo fosse essere un Alt Season sicuramente verrà superato, almeno questa è la mia idea. A numero 5 troviamo Solana, sapete che io ho un debole per Solana e sapete che secondo me supererà sicuramente il suo Altai Mai e a mio parere andrà addirittura al doppio come valore se ci dovesse essere un Alt Season. Questo perché Solana ha sicuramente un fascino particolare e una solidità storica ancora più particolare dovuta sicuramente all'arrivo di tantissime MM coin e Sheet coin purtroppo all'interno del suo ecosistema ma è anche questo che ne fa la forza. Ora Solana è a 158 dollari, Altai Mai 260. Come detto per me è una cripto su cui puntare in un futuro per un futuro. Arriviamo a USDC, questa è un'altra stable coin, non ne parliamo neanche, XRP ecco, secondo me XRP come dico sempre è sempre stata sottovalutata grazie alla causa della SEC l'ultimo bull market non l'ha praticamente vissuto, ora la causa della SEC è arrivata alla fine ha tra virgolette vinto perché ha trovato un compromesso e un pagamento molto molto ridotto rispetto a quello che ci si aspettava e il suo prezzo è al di sotto dell'82.3% e questo secondo me è un prezzo da vermarket e questo per me è un ottimo prezzo per quanto riguarda XRP. Ora, tornerà al suo livello massimo? Questo non posso saperlo ma potrebbe tornare vicino al suo livello massimo io ne sono convinto se iniziasse a spingere anche grazie a tutte le collaborazioni e all'uso che ne fanno le banche a livello nazionale e internazionale difficilmente vedo un futuro del mondo delle criptovalute senza XRP Lido Staker Ether lascerai perdere andrei direttamente a Dogecoin che in questo momento è almeno 85% ok, il prezzo è veramente molto molto basso è la prima meme coin e la regina del meme coin è un po' il bitcoin delle meme possiamo dire e il suo prezzo dipende soprattutto da ciò che dice Elon Musk e da che cosa farà Elon Musk quindi è imprevedibile questa criptovaluta ha sicuramente un prezzo da vermarket e potrebbe sorpassare il suo all time high ma allo stesso tempo potrebbe anche andare sicuramente più in basso il futuro di Dogecoin ci sarà? sicuramente ci sarà ma non è una di quelle cripto che mi attirano più di tanto ce l'ho comunque in portafoglio perché nel portafoglio di base fatto tre anni fa c'è Dogecoin ma non è una di quelle che porterei in un bear market profondo anche se la cifra in cui si trova adesso fa sicuramente molta molta gola arriviamo a Toncoin ecco, fino a ieri quando ho fatto questo video infatti Toncoin era una criptovaluta su cui avrei puntato chiudendo anche gli occhi e in questo momento dopo l'arresto di Pavel Durov che cosa sta succedendo? sappiamo tutti che cosa è successo se non lo sapete dopo capirete perché non lo dico ora saprete meglio la situazione ma secondo me Toncoin rimane anche in questo momento data anche la FAD che molti stanno abbandonando la barca una criptovaluta per il futuro e del futuro per cui in questo momento è sotto del 31% ma non sappiamo se questo è il suo vero oltai mai ovvero quello di 8 dollari e 25 potrebbe essere molto molto superiore lo vedremo soltanto nei prossimi anni e da come si riprenderà da ciò che è successo proprio negli scorsi giorni passiamo a Tron una cripto anche questa storica una cripto che sicuramente fa molto fatica e farà molta fatica a non esistere più e che sta comunque continuando a far passi da gigante grazie anche a Justin Sun e alle collaborazioni che ha al suo interno non è una cripto che mi attira dico la verità perché è una cripto con tecnologia tra virgolette storica e vecchia non mi piace più di tanto è di sotto del suo 30% al suo time high sicuramente ci potrà tornare ma per me non è una di quelle esplosive è una di quelle su cui affiderei il mio capitale alla lunga anche se storicamente è sempre rimasto in alto c'è da dire che in un bear market una cripto del genere può scendere profondamente per poi non tornare mai più in alto Cardano, sapete che cosa ho appena detto è di sotto dell'87.6% dal suo time high è sicuramente ad un livello di prezzo da bear market anche se non è a 0.24, 0.25, 0.38 è comunque un buon livello di prezzo se si guarda il suo time high ma al stesso tempo non è una di quelle cripto che sta andando in voga come ho detto e soprattutto che si sta muovendo nella direzione corretta non sta lavorando sul marketing e non capisco perché e non ci affiderei sicuramente il mio capitale per un futuro neanche per affrontare un bear market non metterei sicuramente dei soldi su Cardano sapendo che in questo momento non ci sarà un bull market aspettando 4 anni e vedendo che cosa succederà nei prossimi 4 anni e se Cardano avrà questo rialzo in un futuro bull market per me potrebbe anche non essere più all'interno tra le 20 posizioni ad esempio se non ci saranno cambiamenti importanti Wrapp e DTH la salterei Avalance, ottima criptovaluta, ottima prezzo da bear market e di Avalance parleremo poi quindi continuerei Wrapp e Bitcoin, c'è poco da dire andrei su Shiba Inu prezzo da bear market pieno criptovaluta, la seconda meme coin del mercato sicuramente ha avuto dei buoni aggiornamenti nel senso si sta muovendo in molte direzioni e sta provando a svilupparsi però è molto strano che questa cripto abbia avuto un rivalzo non veramente come mi aspettavo anche se non tutte le criptovalute sono andate a loro all time ma tra quelle storiche sicuramente è una di quelle che mi piace di più per cui Shiba anche da come lavora è sicuramente un'ottima meme l'unica cosa che mi mette il dubbio e quella anche che mi fa mettere un talo sul fatto di puntarci anche in un bear market sperando che poi il capitale ritorni e che Shiba torni a top 10 nei prossimi è quella che Shiba ha tantissimi competitor a livello di creazione e di innovazione sulle meme coin Flocky in primis una tra tutte ma anche ad esempio Brett che la criptovaluta di base meme sta veramente uscendo alla grande Brett lo saltiamo a gamba tese e andiamo alla posizione 18 ovvero Chainlink ecco Chainlink è sotto del 76.9% e quindi a 12 dollari sappiamo che durante il bear market è stato a 7 dollari e 50 anche ha toccato i 6 dollari e il suo all time è stato di 52 dollari per me non tornerà più intorno ai 52 dollari neanche se ci fosse un alt season ma potrebbe tornare intorno ai 30-35 dollari questo è ciò che penso io perché come detto in precedenza ci sono molte più al coin e il capitale sarà molto più diluito a meno che non abbia veramente delle novità importanti Chainlink farà sì da protagonista perché viene utilizzato dall'RWA che è il trend del futuro e viene utilizzato dalle crypto RWA per la verificazione dei dati e quindi per avere una verifica al 99% che i dati siano reali quindi ottima crypto e questa sì è una che mi porterei anche nel bear market Bitcoin Cash non me la porterei nel bear market è una crypto direi abbastanza vecchia sotto del 90% quindi è in prezzo pieno da bear market ma sinceramente non mi piace è un fork di Bitcoin ma ha una bella differenza rispetto a Litecoin Polkadot purtroppo è stata la mia più grossa delusione sta provando a cambiare rotta e a cambiare progetto da un progetto iniziale che tentava la connessione con qualsiasi altro tipo di blockchain e di una complessità veramente enorme ora ha cambiato indirizzo si sta proiettando sulla IE e su un altro tipo di progetto questo non mi è piaciuto non mi è piaciuto il cambio di programma è sicuramente sinonimo di incertezza e di marketing come hai detto procedono veramente molto molto male infatti è scesa era nelle prime 10 posizioni e è tornata nella posizione numero 20 sotto del 91% penso che non ci siano altri momenti migliori se non questo per comprare una criptovaluta di questo livello al 91% inferiore rispetto al Suolta e Mai ma io non ci farei affidamento dico la verità purtroppo mi ha molto molto deluso lei e Cardano direi sono quelle che mi hanno più tra virgolette mostrato anche il lato negativo delle cripto ovvero come un progetto che sembra veramente esplosivo e interessantissimo può non continuare nella maniera corretta se la gestione non è giusta ora avete visto che tipo di prezzo hanno queste cripto secondo me sono veramente a un livello di prezzo alcune veramente buono non possiamo sapere se quelle create recentemente sono ad un livello prezzo buono oppure no lo vedremo solo in futuro vi dico ora queste benedette 3 cripto che holderei prima la conoscete di sicuro e sicuramente alcuni di voi la detengono nel proprio portafoglio e ne ho parlato tantissimo all'interno del mio canale ancora prima che esplodesse questa è perché mi piaceva la sua idea di condivisione ma soprattutto la sua possibile adozione riguardante una community enorme parlo di TomCoin non potevo non metterla all'interno delle cripto da holdare mi sono dimenticato totalmente nell'altro video e non so neanche perché ora sarebbe stato facile per me cambiare cripto volute all'interno di questo video e quindi andare verso un'altra via per facilitare le cose mostrandovi così un altro progetto da holdare per me è più semplice ma la realtà è che per me TomCoin è comunque un progetto da holdare io non cambio idea la resta di Pavel Durov è sicuramente qualcosa che ha scosso il mercato di TomCoin e di Telegram e che forse potrà portare altri libassi durante la notte italiana infatti quando è uscita la notizia è sceso di un 20% ora è risalito fino a meno 16% e questa discesa sicuramente potrà però trovarsi anche per quanto riguarda la domenica giorno in cui Durov verrà per la prima volta ascoltato ma ciò non cambia per me il futuro di TomCoin rimane luminoso questo perché non è Durov che gestisce TomCoin sicuramente TomCoin essendo all'interno di Telegram è influenzato da Telegram e quindi da ciò che succederà a Telegram stesso e da Pavel Durov ma il fatto che esisterà o no in futuro ecco questo per me non ha nessuna ombra di dubbio perché a gestirlo non è Pavel Durov direttamente e questo lo sottolinea anche la TomCoin community con un post dedicato ecco TomCoin è sicuramente eccezionale come capito valuta sapete già cosa ne penso è adozione incredibile e anche sviluppo all'interno del suo ecosistema veramente assurdo in questo momento una miriade di giochini si stanno creando ad esempio dogs o hamster o gems da poter fare e collezionare quindi punti per avere poi crypto all'interno del suo ecosistema allo stesso modo deve ancora esplodere quindi potenziale enorme è stato listato da poco su Binance ma un'altra grandissima cosa che sta succedendo è quella della creazione di una seconda rete collegata a Matic ma soprattutto a Ethereum grazie infatti a una chain di Matic si potrà collegare l'EVM l'Ethereum virtual machine con TomCoin e quindi esplorare il mondo della DeFi decentralizzata e creare all'interno di TomCoin grazie a sviluppatori Ethereum un altro tipo di ecosistema qualcosa di incredibile e siamo solo all'inizio per quanto riguarda a TomCoin dopo TomCoin passo a un'altra criptovaluta che conoscete storica che sicuramente non vi piace ma se dovessi decidere di holdarla la holderei ed è una criptovaluta che mi dà anche sicurezza questa cripto è una fotocopia di Bitcoin e voi direte sta dicendo una fesseria totale no in realtà ragazzi sto parlando di Litecoin come Litecoin ormai è morta assolutamente no se guardiamo il suo grafico infatti ha avuto anch'essa un rialzo ha avuto un rialzo anche nello scorso bull market e sta comunque continuando a svilupparsi non tanto il suo ecosistema interno ma esternamente l'adozione sta continuando per un periodo i pagamenti di criptovalute in tutto il mondo sono stati più grandi nell'ecosistema Litecoin che Bitcoin e questo deve far pensare oltre a questo è un cosiddetto argento digitale secondo alcuni non so se voi siete d'accordo ma a parte questo la cosa anche che mi ha affascinato è che Fidelity ha creato un fondo per poter investire in Litecoin e non ha scelto altre criptovalute ma Litecoin descrivendo questa cripto come quello che è ovvero un Bitcoin più veloce meno sicuramente sicuro ma più scalabile è un fork lo sappiamo bene fatto nel 2012 ma che ancora oggi vive e che continuerà a vivere dato che ha resistito a periodi difficilissimi per cui la volderei l'ultima cripto anche essa è una cripto storica non come Litecoin ma importante ed è AVAX improntata sul gaming è sicuramente una cripto che si sta sviluppando molto e anche se ha performato malissimo nel 2024 per ora infatti è nella top 20 la peggiore per quanto riguarda la sua performance ha avuto un meno 45% mi affascina comunque tanto questo perché ha sicuramente dei collegamenti e degli sviluppi veramente stupendi ad esempio Konami un'azienda di videogiochi giapponesi la conoscete penso tutti quanti ha deciso di utilizzare la blockchain di AVAX per poter di creare NFT all'interno di questa chain e anche gaming un sorta di marketplace oltre a questo ha fatto collegamenti anche con altre grandi aziende sicuramente notizia importante è quella che Grayskull lancia un fondo di investimento per il token di AVAX e raggiunge alla suite di oltre 20 prodotti dedicati ai cripto investimenti di Grayskull qualcosa che fa capire l'importanza che ha AVAX per il mondo delle criptovalute ma soprattutto per il mondo dei mercati finanziari tradizionali in California viene utilizzata da una cosiddetta tipo nostra motorizzazione per poter salvare i dati sulle auto e sulle moto all'interno del suo blockchain per quanto riguarda la Turchia ha creato una collaborazione con una banca di nome Mision per quanto riguarda l'uso di AVAX e degli asset reali come detto gli RWA stanno arrivando e il mondo intero soprattutto le banche se ne stanno accorgendo quindi tentano di utilizzare blockchain sicure storiche e quindi la loro storicità dà sicuramente più sicurezza se si guarda che cosa è successo e la possibilità di ovviamente tokenizzare asset reali vedremo come andrà a finire ecco quindi queste sono le mie tre cripto che oderei non ce ne sono altre devo essere onesto non ce ne sono altre se voi ne avete di migliore iscrivetevi qui sotto guarderò i commenti e vi risponderò oltre a questo utrate anche BingX copy trading e trading spot con un exchange eccezionale veloce efficace fee pari praticamente a zero grazie per la visione un saluto a tutti quanti e al prossimo video un ciao Michele ciao ciao